Ciao a tutti. Cari spettatori. Siamo qui per portarvi una notizia entusiasmante che riguarda due volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per fare il loro ingresso in uno dei programmi televisivi più amati e iconici degli ultimi anni. Che cosa ci riserveranno in questa nuova avventura? Scopriamolo subito. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, due nomi familiari a molti di voi, stanno per diventare i nuovi volti di Ex on the Beach, il format storico di MTV che ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico. Questi due affiatati conduttori, entrambi noti per la loro personalità unica e il loro stile di vita glamour, sono pronti a prendere il testimone da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le star delle ultime due edizioni del programma. Nella locandina promozionale dello show, Giulia e Pierpaolo sfoggiano un look audace e affascinante. Pierpaolo indossa boxer da mare rosa, in perfetto abbinamento con il cappello da cowgirl di Giulia, anch'esso in rosa, così come la sua canottiera. La loro sintonia è palpabile. E sembrano pronti a regalare momenti di intrattenimento unici. Giulia e Pierpaolo non sono solo colleghi di lavoro. Ma anche una coppia nella vita reale. Questa dinamica unica promette di portare un tocco speciale a Ex on the Beach. Entrambi hanno condiviso le loro aspettative per il programma. Con Giulia Salemi dichiarando. Cercherò di dare il mio tocco glam a questa nuova edizione. Mentre Pierpaolo Pretelli ha aggiunto. È un reality autentico. Fuori dagli schemi. Dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn. La quinta edizione di Ex on the Beach. Sarà disponibile in esclusiva su Paramount+. A partire dal 22 novembre. Con i primi due episodi che saranno rilasciati contemporaneamente. Successivamente. Potrete godervi un nuovo episodio ogni settimana. Ma non è finita qui. Perché prossimamente il programma sarà trasmesso anche su un canale televisivo. Eugenio Bonacci. Chief Content Officer di Frimantol Italia. Che produce il programma. È entusiasta della scelta di Giulia e Pierpaolo come nuovi conduttori. Crede che sapranno mantenere vivo il fascino del programma. Ereditato da Cecilia e Ignazio. Non perdete l'occasione di seguire da vicino Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in questa nuova avventura televisiva.